Un bambino stupendo, dove lottava tra la vita e la morte, io a volte non so perché, prendi il macchie, il negozio più bello, forse è solo perché era la stella più bella e l'ha venuta vassù, non lo so, sicuramente non so voglia di farvi dire a Dio perché, o di farmi dare spiegazioni, però voglio un attimo di silenzio, per il piccolo passato che due giorni faccia lasciato, è un bambino stupendo, è un bambino stupendo con i ludici, e purtroppo, purtroppo non ce l'ho detto, allora bambino è stato finito, a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.